Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Eccoci al secondo video in cui vi parliamo dei prodotti di Jeunesse della linea Luminesse, cioè per la cura della pelle. Oggi vi parliamo di... Crema giorno! Iniziamo a dire che cos'è. È una potente crema viso idratante antirughe con fattori di protezione drenza che aiuta a evitare la formazione delle linee sottirre e di rughe. Facendo cosa? Stimolando la normale reidratazione della pelle. Cosa contiene? Contiene anch'essa innanzitutto la PT200 che è il complesso dei fattori di crescita delle cellule staminali di cui vi abbiamo parlato nel video precedente. In più è arricchita da potenti estratti di mela, denticchia, anguria, alghe e un potente complesso vitaminico che contribuisce a proteggere la pelle, specialmente con la vitamina C. Ha iniziato? Come applicarla? Se ne applica un po' sulla punta delle dita, si massaggia dal collo andando verso l'alto. Per risultati migliori chiaramente va applicato prima il siero perché tutti i prodotti lavorano in sinergia. Il siero, come abbiamo detto, penetra fino al quinto strato e poi c'è la crema che va applicata successivamente. Chiaramente tutti i prodotti funzionano utilizzati insieme e funzionano meglio. Chi può utilizzarla? La possono utilizzare tutti, si adatta a qualsiasi tipo di pelle come tutti i prodotti della linea Luminense. Non contiene parabeni, non contiene oli, è ipoallergenica, contiene soltanto ingredienti naturali, è raccomandata da moltissimi dermatologi e contiene anche il fattore di protezione 30 che quindi ci protegge dai raggi UVA e UVB. I prodotti non sono assolutamente testati sugli animali e non raccomandati dai dita. Oggi non finisce qui perché insieme alla crema giorno vogliamo parlarvi anche della... Tadà! Crema notte! Crema notte! Questo è un prodotto essenziale per me. Cos'è appunto? È una crema che va utilizzata di notte. Chiaramente è una crema molto fluida, molto piacevole al tatto, che ha una formulazione specifica per lavorare con il nostro DNA durante la notte, perché il nostro DNA naturalmente si rigenera durante la notte. Quindi voi l'applicate la sera dopo esservi lavato il viso, dopo il siero e la mattina vi svegliate che non vi riconoscete. Cinderella! Cosa contiene la crema notte? È anch'essa ricchissima dei fattori di crescita delle cellule staminali, in più è arricchita da ingredienti naturali che aiutano a proteggere il nostro DNA dai danni dei radicali liberi e aiutano a migliorare la riparazione del DNA danneggiato dai raggi UVA e UVB. Quindi va applicata la sera, prima di andare a letto, con il viso pulito, applicando prima il siero. Fondamentalmente perché vi dico questo? Vi dico questo perché utilizzando i prodotti in sinergia, quindi cleanser, che poi ve ne parleremo, siero, crema giorno, siero, crema notte, test clinici hanno dimostrato che l'elasticità, la levigatezza e la compattezza della pelle aumentano del 30% in solo i 90 giorni. E questi sono test di laboratorio, non sono test fatti da genetica. Da noi! Da noi! Quindi è importante aggiungere che diversi test clinici hanno dimostrato una maggiore riparazione del DNA, un aumento della duplicazione delle cellule e una diminuzione delle macchie dovute all'età. Il nostro video è finito! Il nostro video è finito! Grazie per l'attenzione! Grazie ragazzi! Ciao! Ciao, alla prossima!